fratelli bianconeri e non buonasera di nuovo a tutti voi anzi buonanotte perché sono quasi le due menù 20 allora dopo aver fatto il video post partita e aver letto e ascoltato un po di cose che ci sono in giro per il web ma soprattutto dopo aver letto alcuni commenti che sono arrivati dietro al video che ho fatto della partita ci sono stati alcuni attacchi che ho ricevuto a livello personale che non mi stanno bene e allora vi rispondo allora voi cari anti juventini ok quindi parlo dei tifosi delle altre squadre non mi rivolgo certo ai miei colleghi di tifo non mi conoscete bene sarebbe meglio che prima di parlare lanciare accuse contro il sottoscritto vi informaste bene chi sono io perché io non sono la persona che pensate voi io non sono lo youtuber di 25 30 anni che va in cerca a fare il buffone per prendere le visualizzazioni non me ne può fregare di meno quindi vi sia ben chiaro questo da subito e siccome che sono stato accusato di certe cose sono stato accusato di essere uno che è un antisportivo e forse avete capito proprio male mi avete accusato del fatto che io nei video arretrati ho detto cose che non vengono confermate dal video di stasera allora adesso vi dico una cosa e la ripeto una volta per tutte allora io sono un anti interista col pd gray io sfotterò sempre l'inter sempre e mi auguro che perda tutte le domeniche e questo ve lo dico chiaro e chi mi conosce degli utenti interisti che sono sul mio canale mi accettano per questo perché comunque sono una persona sportiva io sono uno che faccio lo sfottò quando l'inter lo merita e lo accetto quando perdo senza problemi io ne ho accettati tantissimi di sfottò dopo che ho perso la finale di champions e sono stato zitto e questa è la prima cosa e lo ripeto sono un anti interista col pd gray primo seconda cosa tra tutti gli youtuber che ci sono sul tubo io forse sono quello più sportivo di tutti perché io so riconoscere i meriti soprattutto dei miei avversari quando lo merito secondo terza cosa vi sarei grato cari anti juventini che quando faccio i video li ascoltaste tutti non ascoltaste i primi non ascoltaste se solo i primi tre minuti e poi chiudete il video ascoltatevelo tutto quello che vi dico vi sarebbe più chiaro e forse mi conoscereste meglio allora facciamo un passo indietro sono stato accusato e non solo io ovviamente ma tutta la juventus gli anti juventini la juventi tutti siamo stati accusati di essere anti sportivi anti sportivi siamo noi davvero dopo che ci siamo dovuti sorbire cinque minuti di fischi di bù razzisti per matuidi dopo che ci siamo dovuti subire delle offese anche dire che era per terra con la colpo alla testa che aveva ricevuto devi morire dopo che di male è uscito in lacrime che gli sono state lanciate dette offese di tutti i tipi noi siamo quelli non non sportivi siamo noi quelli non sportivi allora io ragazzi sono andato a rivedere il fallo che ha fatto benatia su pavoletti premetto ascoltare bene ciò che io dico grazie benatia ha fatto fallo ok è un fallo quello di benatia perché è saltato allargando il braccio ma a pavoletti non gli ha fatto nulla perché se voi andate a rivedere l'azione visto che tutti continuate a dire che quello è un fallo e doveva essere fermato ok allora poteva fischiare il fallo assolutamente nessun juventino ha detto che non deve fermare il fallo non doveva fermare l'azione il fallo poteva essere fischiato e chi dice di no ma se voi andate a rivedere l'azione l'arbitro non ha fischiato il pa il fallo perché la palla ce l'avevano i cagliaritani quindi l'arbitro visto che il fallo non era grave ha ritenuto di dover dare il vantaggio chiaro questo è l'unico motivo poi ad azione ferma poteva al limite ammonire benatia questo se voleva poteva farlo ma non può fermare l'azione perché la palla ce l'avevano i cagliaritani poi lasciamo stare che dopo cinque secondi neanche l'abbiano persa e la juventus ha fatto gol ma quando benatia ha fatto rifallo la palla in mano ce l'avevano i cagliaritani l'arbitro ha dato il vantaggio prima cosa il fallo di mano di bernardeschi cari amici è un fallo di mano che teoricamente dovrebbe essere fischiato ma siccome che sul canale siete venuti lì per fare i puntigliosi dicendo ai braccio lontano dal corpo allora bernardeschi il braccio non ce l'ha così bernardeschi il braccio ce l'ha a questa distanza e sfido chiunque fare il movimento che ha fatto bernardeschi e non dover muovere il braccio perché non è che i giocatori si possono muovere così allora quando io nel video prima ho lanciato simpaticamente una provocazione per parlare della regola che c'è c'è stato subito qualcuno il fenomeno di turno che è entrato nel canale a te non sai che invece la regola c'è anche a livello europeo mondiale ma lo dite voi che la regola c'è però è una regola sbagliata secondo me tutto qui quello che io ho detto io non ho mica detto che il cagliari non è stato penalizzato stasera e chi ha mai detto una cosa del genere io ho detto che non è stato penalizzato il cagliari io ho detto che il rigore si poteva dare e chi ha detto di no ho soltanto detto però che la regola in questi casi che porta al rigore dovrebbe essere un po più chiara di quella che è allora se tu vuoi lasciare la discrezione all'arbitro di decidere devi accettare quello che l'arbitro decide senza far polemiche ma fra noi tifosi lo sfottò ci sta se non siete neanche capaci di accettare lo sfottò quando vi viene fatto noi dalla juventus è una vita che accettiamo li sfottò su queste cose a voi delle altre squadre vi fanno lo sfottò una volta e ve la prendete e vi arrabbiate vuol dire che avete delle paglie lunghe come ho scritto sul canale prima un utente avete le code di paglia lunghe chilometri e lo ripeto il fallo di mano di bernardeschi c'è e il fallo poteva tranquillamente essere fischiato chi ha detto di no ripeto io ho detto che però la regola del fallo di mano dovrebbe essere più chiara perché secondo me non è giusta com'è perché se tu non fischi tutti i falli ma fischi solo quelli che veramente ritieni che siano rigore quindi vuol dire che è l'arbitro che decide se l'arbitro decide vuol dire che lui in quel momento si sente talmente sicuro di non avere bisogno del var tanto è vero che è stato detto che l'arbitro calvarese quando ha parlato in cuffia ai signori del var gli ha detto ho visto tutto io non ho bisogno del var evidentemente avrà visto bene non lo so le immagini non sembra che abbia dimostrato di aver visto bene perché vedendolo poi a velocità normale è un fallo da rigore e chi dice di no signori demon non ha mai detto che non ne rigore io ho soltanto detto che c'è ci sono certe cose della regola che secondo me non sono giuste ma quello che si prende non è che si prende ad esempio per colpevolizzare le squadre che ricevono favori a parte il fatto che da quando c'è il var la juventus è stata una di quella che ha di quelle che ha avuto più spavori che favori a parte quello ma a me quello non me ne frega niente io non ho l'abitudine di parlare degli arbitri a me nell'arbitraggio ne parlo per farmi quattro risate a me non me ne frega niente io vado vedere che nel complesso di questa partita se il risultato doveva essere più giusto per me il cagliari non aveva demeritato e se avesse pareggiato non avrebbe rubato però ciò non toglie che nei primi 20 minuti il cagliari ha visto i sorci verdi la juventus ha colpito due pali che se fa due gol la partita dopo 20 minuti è finita voi queste cose invece non le vedete perché stasera c'è stato di mezzo il non var e state buttando su un polverone dandomi perfino a me del non del non sportivo a me mi venite a dire che non sono sportivo io è come se è come se offendeste mia madre a dirmi a me che non sono sportivo quindi non scherziamo ora ripeto ribadisco se noi vogliamo parlare della regola del fallo di mano il fallo di mano è se tu dai la scelta all'arbitro di giudicare l'arbitro è quello che può anche decidere di non andare al VAR perché se lui in quel frangente si ritiene così stramaledettamente sicuro che di quello che ha visto ha visto bene lui può decidere di non andare al VAR e allora ecco perché Damon vi continua a dire che il VAR per il momento ha fatto più danni che cose giuste per il momento poi adesso vedremo alla fine della stagione se gli errori si compensano vedremo ma sinceramente io ad oggi non mi sento di parlare particolarmente bene di questo VAR speriamo che migliori 1 riguardo e voglio ancora ripeterlo all'azione del fallo di mano il fallo di mano è una cosa interpretativa non è fallo di mano se prima la palla tocca la gamba e poi tocca il braccio nonostante che cambi direzione non è fallo se tu ti giri di spalla ti giri così sei magari che so in barriera ti giri per colpire c'hai il braccio attaccato al corpo colpisci il braccio qui la palla va fuori dalla porta non è rigore giusto è così no se tu salti però hai il braccio hai tutte le braccia attaccate al corpo che uno poi mi deve spiegare come fa a saltare con le braccia attaccate al corpo ma va bene a parte quello non è rigore giusto sono soltanto calci di rigore i falli di mano sono eclatanti è giusto che così la regola dice questo no questo oppure volete obiettare anche questo la regola dice questo allora io l'altro l'altra settimana ho parlato del fallo di mano di merda perché sono quelli sono falli di mano quello di bernardeschi è un fallo di mano se ne può parlare l'arbitro può tranquillamente dare il rigore non l'ha dato va bene pazienza se ne parlerà passerà pensiamo alla domenica successiva cosa dobbiamo fare però che tutte le volte che c'è qualcosa danni dalla juve a favore della juventus e che voi dobbiate entrare sul mio canale a me a darmi dell'antisportivo mi dispiace signori io non l'accetto io non sono un antisportivo e questo ci tengo particolarmente perché tutti gli utenti soprattutto i primi mille che sono con me praticamente dall'inizio non i primi mille scusate i primi cento mi conoscono bene come ragiono io io sono la persona più sportiva che esiste sulla faccia di questa terra e quando la mia squadra gioca male non merita io sono il primo a dirlo ma io stasera non vi dirò mai che la juventus non ha meritato di vincere perché nel primo tempo soprattutto abbiamo avuto quattro cinque occasioni da gol oltre ad aver colpito due pali poi dopo il cagliari è venuto fuori scesne ha fatto due tre belle due tre belle parate due soprattutto importantissime e chi lo nega questo se il cagliari avesse pareggiato non si poteva parlare di demerito e chi dice il contrario questo ho detto per caso il contrario io ma non venite sul mio canale a dirmi che io sono antisportivo perché non ve lo permetto come non dovete venire sul mio canale a scrivere parolacce e a scrivere offese non ve lo permetto perché io vi banno seduta stante se volete stare con me parlate in modo sportivo in modo leale e in modo serio poi ci sta lo sfottò lo faccio e lo ricevo senza problemi mi va benissimo ma sempre nel massimo del rispetto io le morali sul calcio non le accetto da nessuno di voi da nessuno giuventini ma soprattutto non giuventini il mio canale aperto a tutti a qualsiasi colore di maglia ma non venite mi qui a me a me ad insegnarmi la sportività perché io sono uno che ho girato gli stadi di mezzo mondo e non ho mai trovato da litigare con una singola persona che fosse una prima di criticare demon pensateci bene e cercate di conoscerlo non venite mi a dire a me stasera hai fatto una pessima figura facevi meglio a star zitto forse facevi più figura tu a non entrare nel mio canale a scrivere visto che non mi conosci non mi conosci